Buonasera, buonasera. 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 Buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Scrive la Sant'Antonio SRL alla provincia, alla luce di tale grave inadempimento, avendo realizzate opere richieste accettate da questa amministrazione al fine di limitare i danni subiti, abbiamo ritenuto previa comunicazione di retrocedere da ogni impegno assunto nei vostri confronti di proporre l'utilizzo dell'immobile in questione ad altro utente sottoscrivendo contratto di locazione. E la notizia è quella circolata ieri sulla scuola media Capograssi che andrà nell'ex convento di Sant'Antonio e in questo terribile gioco a chi è più forte, dove sono state messe quasi in duello due scuole di Sulmona, non si capisce ora quando e come il Denino Morandi troverà la via di casa. Il presidente della provincia, contattato da questa testata, non si è reso reperibile e il consigliere provinciale Moro Tirabassi, che si era fatto promotore di una mozione in consiglio per chiedere un tavolo urgente a tutte le parti coinvolte, passa all'attacco. Il presidente Caruso non risponde alla telefonata e il resto è completamente amareggiato, la sua atteggiamento si limita a dire Tirabassi che apre il caso politico ed è pronto anche alla rottura con Caruso, almeno per il caso di specie. In provincia le acque sono agitate e come pure in città il clima non può definirsi sereno perché per una scuola che ride ce n'è un'altra che aspetta e resta in lista da testa. Ora la pagina del commercio e dell'economia, esclusa l'unica offerta, la fiera dell'assunta salta per il secondo anno consecutivo. Sentiamo il perché nel nostro servizio. L'unica offerta pervenuta è stare esclusa e per il secondo anno consecutivo salta la fiera dell'assunta. All'amara sorpresa è arrivata sull'albo pretorio del sito istituzionale del comune di Sulmona con la pubblicazione della determina dirigenziale numero 1159 del 29 luglio, firmata dalla dirigente del terzo settore Gianfranco Niccolò, con la quale è stata esclusa l'offerta presentata dalla Promiter SRL, partecipata della CNA per l'affidamento per l'anno 2019 dell'organizzazione, gestione e svolgimento della fiera dell'assunta. La motivazione? Nella determina si legge che l'offerta è di forma, le previsioni dell'articolo 12 del regolamento per il commercio su spazi e repubblica e nonché dell'articolo 3 dell'avviso pubblico. La commissione giudicatrice ha rilevato l'assenza di alcune specificazioni che erano richieste nella manifestazione di interesse, come la tipologia merceologica dei prodotti, il numero dei marchi di prodotti venduti e fini dell'assegnazione dei punteggi sulla qualità della merce. Secondo la commissione mancava pure la descrizione dei diversi eventi collaterali e di animazione da realizzare contestualmente la manifestazione e le modalità di pubblicizzazione dell'evento e sua diffusione territoriale. L'offerta presentata è stata quindi esclusa e non essendo prevenute altre richieste, anche l'edizione 2019 della fiera dell'assunta non si svolgerà. Era già accaluto lo scorso anno l'associazione Area 51, la cui offerta era stata esclusa per altri motivi e il famoso rilancio della fiera che punta l'artigianato e la valorizzazione dei prodotti tipici non si è ancora concretizzato. Viene spontaneo da chiedersi il perché le associazioni non riescono ad adeguarsi alle prescrizioni del regolamento. Cambiare il regolamento per rilanciare un evento per poi non riuscire ad affidarlo non è il massimo del risultato. Una riflessione va aperta. E ora la banca di reddito cooperativo che riparte dalle celebrazioni del centenario, un secolo di vita, un secolo di attenzione alla persona. Noi facciamo il punto nel nostro servizio. Cento anni fa è stata fondata per coronare il sogno di Don Domenico De Cristoforo per lottare contro la miseria, la povertà e l'usura. Era la cassa cattolica di deposito e prestito. Dopo un secolo di vita resta una banca con l'orecchio sempre teso ai bisogni della popolazione, soprattutto le più deboli, per non smarrire la bussola e il ruolo che è stato recitato dai soci fondatori. Forte della sua imponente tradizione e dei risultati raggiunti in cento anni di vita, la BCC di Prato Lapelini ha festeggiato questa mattina la cifratonda al Teatro Comunale d'Andrea. Una sala piena di istituzioni, imprenditori, portatori di interesse, tanti pratolani. Segno che la BCC in un secolo di storia è riuscita a coinvolgere tutte le fasce della società civile. Non una banca, ma la banca, quella che fa della centralità della persona la mission da conservare, fermo restando l'evoluzione del mercato, le nuove sfide da affrontare. Ma i numeri sono ormai noti a tutti. Dieci sportelli, 61 dipendenti, 1962 soci, 19.000 clienti. Un set to an maggiore del 30%, l'adesione al gruppo e crea, che permette di restare in piedi. Laro cento anni e non sentirli, potremmo dire. Li porto bene. Anche la banca però li porta bene. Allora, cento anni, un secolo di vita e quindi la banca è doveroso, quindi ringraziare i soci fondatori che con l'aiuto e sotto la guida di Don Domenico di Cristoforo fondarono questa cassa cattolica di devorsi dei prestiti con lo scopo di fronteggiare i mali più profondi di quel momento, che erano la miseria, la povertà e l'usura. Però poi hanno dato modo di migliorare le condizioni dei ceti più deboli e di promuovere il progresso per tutti. Quindi un ringraziamento a tutti loro, ma io voglio ringraziare anche, così come ho detto nel mio discorso iniziale, tutti coloro che hanno creduto e che continuano a credere alla BCC, dandoci continuamente questa fiducia, essendoci vicini sempre con noi. La Rossi ha ricordato il ruolo recitato dalla banca, che ha messo la persona al centro, ma anche le famiglie e le piccole imprese. Un punto fermo importante anche per il direttore generale Silvio Lancione. È una banca che, con lo spirito della mutualità e della cooperazione, ha saputo stare in piedi anche nei momenti difficili, ha saputo produrre reddito, ha saputo redistribuirlo al proprio territorio e continuere a farlo anche in futuro, crescendo e verso anche altri territori. Nel corso del convegno sono arrivati gli auguri dei vari redatori. La raccomandazione è quella di saper discernere ciò che è da mantenere, da ciò che bisogna cambiare, come pure guardare sempre all'avvenire e non al futuro. La BCC di Prato ha molti anni dinanzi a sé, perché abbiamo sentito che ha dati ottimi, ha una penetrazione sul territorio molto rilevante, è estesa in questo territorio, che ha sicuramente una fase di criticità, come per molte parti d'Italia, ma ci sono i segnali della ripresa. Una banca di comunità, ovvero una banca che fonda le sue radici nel rapporto con le persone, che è orgogliosa di un percorso che in questo caso è lungo un secolo e che proietta il suo futuro in un impegno al coinvolgimento dei rapporti con le persone, sapendo qual è la grande responsabilità di gestire i risparmi della gente e di reimpiegarli sul territorio. BCC Prato la Perigna ha una caratteristica che deve proseguire, che è quella dell'attenzione alla persona. Quindi mettendo la persona al centro, il socio e il cliente, la BCC potrà proseguire un percorso virtuoso, insieme con il gruppo bancario cooperativo Icrea, per una crescita e uno sviluppo comune. E a questo ovviamente va aggiunto la carica delle 2000 persone che poi hanno preso parte la sera all'esibizione di Enrico Brignano e alla premiazione dei soci. Ora torniamo a Sulmona per parlare di giostra europea, perché è già partito il conto alla rovescia e il centro storico quest'anno per tre giorni sarà trasformato in un vero e proprio borgo medievale. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Non solo sfide, ma la città immersa nel passato, tra Medioevo e Rinascimento, sarà una giostra europea rinnovata nella formula, una sorta di anno zero, dal quale ripartire per rafforzare le sue specifiche peculiarità in una dimensione sempre più internazionale. L'edizione 2019 si annuncia piena di novità e sulla scia del successo che ha riscosso l'edizione del 25ennale della giostra di Sulmona, il sindaco Namaria Cassini ha lanciato la proposta che alla Municipalità si è riservato uno specifico spazio nella rievocazione storica. Il Comune quest'anno ha fatto questo primo, ripeto, esperimento carino, simpatico, che è stato anche molto apprezzato, ma Sulmona la Municipalità dovrebbe entrare ufficialmente nel corteo con una propria delegazione e istituzionalizzare proprio la presenza del Comune all'interno della manifestazione giostra, proprio per suggellare questo aspetto che ho appena descritto, cioè che Sulmona e la giostra sono un tutt'uno. Ma andiamo con ordine. Il programma della seconda settimana di giostra comincia con la grande fiera storica Città di Sulmona che si svolgerà da venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto. Nella Villa Comunale sarà inoltre allestito un mercato tradizionale di antichi mestieri e prodotti artigianali con una cinquantina di artigiani e espositori. Le esibizioni degli artisti del centro storico si terrandono in weekend, nelle fasce orarie di chiusura, del centro storico al traffico. Hanno coinvolti circa 15 artisti, ma in totale le compagnie che parteciperanno sono molte di più perché ci sono anche gli accampamenti medievali, i mercanti e gli artigiani. Funzionerà che Sulmona per tre giorni si trasformerà in un palcoscenico, in un teatro naturale. Tutte le postazioni più belle che abbiamo, la scarnata dell'Annunziata, il Circolo della Villa Comunale, Piazza del Carmine, la stessa Piazza Garibaldi, Piazza Venti con la statua di Ovidio, diventeranno dei palcoscenici per tutti questi artisti che arriveranno da tutta Italia, ma non solo. C'è un gruppo della Repubblica cieca, i Burdiri, che fanno stuntman storici a livello professionale, hanno fatto tantissimi film e animeranno queste tre giornate per i turisti, per la città di Sulmona, perché l'occhio era anche rivolto verso gli abitanti di Sulmona, che almeno vedranno degli eventi, oltre il corteo già meraviglioso, la giostra stessa e il palio, ma avranno anche la città trasformata e viva per tutte le tre giornate. La Germessa sarà inaugurata venerdì alle 18, su Sagratore Palazzo dell'Annunziata, dove Gianluca Foresi presenterà tutti i gruppi e una quindicina che si esibiranno nelle giornate di fiera. Per l'occasione l'Associazione Giostra metterà in vendita un braccialetto. Questa è un'altra novità che abbiamo voluto sperimentare. È un braccialetto tipo quello che si danno nei villaggi turistici quando si va fuori, che è indossato, dà diritto a delle scondistiche, sia per quanto riguarda tutti gli stand che sono all'interno dell'accampamento alla villa comunale, ma anche all'interno dei negozi, ristoranti, alberghi, che ci stanno dando corrispondenza e quindi ci stanno dando una mano. In tal senso, chi presenterà munito di questo braccialetto avrà dei sconti. Il braccialetto avrà un importo simbolico di 5 euro, quindi 5 euro basta che si fa qualche breve acquisto, penso che nel giro della stessa serata del venerdì abbia già ripagato il prezzo del braccialetto. Potrà essere acquistato nella biletteria della Giostra, alla Rotonda di San Francesco, in un punto 20 dall'estero nella villa comunale. Sabato sarà il giorno dedicato al corteo e alle gare della Giostra d'Europa in Piazza Maggiore. Alle 20 è prevista la partenza del corteo da Piazza Tresca, quindi l'arrivo sul campo di gara per le sfide e la conquista del Palio. Le delegazioni estere ospiti saranno 8, i greci di Zante e Corfu, Burghausen, Colchester San Marino, i croati, il Canada con una rappresentanza di Pelle Rossa e il Burundi. Per quest'ultima delegazione sono sorte difficoltà, tanto deve stare bloccata nell'aeroporto di Nairobi, perché la Svizzera non ne consentirebbe il passaggio sul suo territorio. Sono tuttavia in corso contatti tra le ambasciate per rendere possibile l'arrivo dei burundesi in Italia. Ulteriori osperi saranno Prezza con la revocazione del Malmozzetto, il Teatro Camerlengo di Chiedi, un gruppo di Monte Rotondo, provincia di Roma. Le delegazioni saranno presenti con oltre 200 persone. Abbinate alle delegazioni estere, Setteborghi e Sestieri Cittadini, ci saranno Anversa degli Abruzzi, Pacentro, Pettorano Sul Gizio, Scanno, Bugniara, Introdacqua e Villalago, appartenenti ai creb dei borghi più belli d'Italia. Dopo le scene nelle contrate cittadine, gran finale con il concerto gratuito di Evia, la cornamusa più famosa al mondo, domenica 4 agosto alle 22.30 in Piazza Maggiore. La sua esibizione sarà aperta da quella del gruppo musulmonese dei Rotatemporis con la partecipazione delle cornamuse di Colchester. I possessori del braccialetto della giostra potranno godere di una posizione privilegiata. Loro sarà riservata all'area gold del sottopalco. Proprio i Rotatemporis con Marco Di Camillo hanno contribuito all'organizzazione dell'intera manifestazione. Soddisfazione è stata espressa dal presidente onorario della giostra, Mimmo Taglieri, dal presidente Maurizio Antonini, per la buona riuscita dell'edizione numero 25 della giostra di Sulmona. Ci prepariamo a predisporre un progetto europeo che dia stabilità e certezza nel movimento della giostra, perché la giostra è il futuro della città, la giostra è economia, la giostra è positività, perché i giovani possono, nell'ambito di questo discorso di risveglio, trovare la possibilità di avere lavoro nella nostra città. Le aspettative per il weekend sui generi, se pieno di novità, restano alte. Entrando l'Umpi l'Aquila consegna 10 defibrillatori alle Proloco, sabato la cerimonia e il corso BLSD. 10 defibrillatori semi-automatici di ultima generazione saranno donati alle Proloco vincitrici del bando, indetto lo scorso mese di maggio dall'Umpi l'Aquila, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. Arriva quindi alla fase finale il progetto Cardio Proloco che punta a dotare le singole associazioni di uno strumento salvavita, un'iniziativa che l'Umpi provinciale ha fortemente voluto per mettere al centro delle sue attività anche la salute delle persone, tanto da allocare nel bilancio 11.000 euro. Sono 14 le Proloco che hanno risposto all'avviso pubblico, ma solo 10 di esse potranno beneficiare il dispositivo salvavita, tenendo conto dei requisiti previsti nel bando. La cerimonia di consegna avrà luogo a margine del convegno di approfondimento sul tema della cardioprotezione con personalità di rilievo nel mondo medico, legale e divulgativo. L'appuntamento è per sabato 3 agosto alle 16 presso l'Hotel Meeting Santa Croce a Sulmona. Dopo gli onori di casa che saranno resi dal presidente Umpi l'Aquila, Raffaele Di Santi, dal presidente regionale Umpi Abruzzo, Sandro Di Addezio, interverranno varie professionalità che approfondiranno tutti gli aspetti legati alla cardioprotezione. Direttore del reparto di anestesia e reanimazione dell'ospedale di Sulmona, Leonardo Braschi, presidente nazionale IRC Comunità, Pietro Ciamacco, referente regionale IRC, l'avvocato Mariella Iommi, referente territoriale Udicon, Gian Piero Cuna, medico del 118, Laura Pelino, referente scientifico Associazione Diadema e Fabio Morini, amministratore delegato Informare Medici SRL. Seguirà la consegna di 10 defibrillatori alle associazioni Proloquo accompagnati dai loro sindaci e la consegna degli attestati del corso obbligatorio BLSD che si svolgerà nella mattinata del 3 agosto che vedrà la partecipazione di circa 30 volontari accreditati perché chi salva una vita salva il mondo intero. Un libro per ogni rifiuto è l'iniziativa originale promossa dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise proprio per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Sentiamo meglio nel nostro servizio e nella nostra raccolta di opinioni. La parola inglese che lo definisce ne sintetizza tre della nostra lingua ma il concetto è sempre lo stesso e littering, ovvero l'abbandono dei rifiuti in luoghi non autorizzati e ovunque una pratica incivile e dannosa. Figuriamoci poi se il luogo in questione è un'area protetta. Curioso che sempre nella lingua inglese basti aggiungere una G per vedere del tutto cambiato il significato. Glitter sta per scintillio mentre a scintillare nel litter rifiuto può essere solo la luce del sole riflessa sull'alluminio della lattina abbandonata. Contro il littering, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha deciso di mettere in campo un'arma discreta ma potentissima. I libri, attraverso l'iniziativa Un libro per un rifiuto si invitano gli escursionisti a raccogliere durante le passeggiori sui sentieri piccoli rifiuti abbandonati. Il raccolto, costituito da lattine, carta stagnola, palloncini, bottigliette e altri oggetti simili, va fotografato e consegnato alla Biblioteca del Parco. In premio si riceve un libro a scelta tra quelli destinati all'iniziativa. La Biblioteca del Parco si trova a Pesca a Serro, rinvia a Rovereto ed è aperta da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 e 30. Ma quanto tempo nel corso della giornata i sulmonessi dedicano alla lettura? Leggo le cose belle una mezz'ora perché non posso stare molto con la schiena piegata. Quello che si può. Quello che si può. Dedica tempo alla lettura? Noi leggiamo sempre, sì. Anzi, vediamo sempre Onda TV, siamo da Hamilton, Ondario e quindi siamo molto spiacenti del telegiornale di qui di sulmonessi. Ma quanto tempo dedica la lettura? Alla lettura? Leggiamo di tutto su Facebook, leggiamo di tutto questo che succede. Quindi il libro dedichiamo probabilmente 2-3 ore alla settimana perché fa lavoro ancora. Dico di più, un'ora al giorno sicuro, forse anche più. Perché fa bene. Il giornale, i giornali, li leggo quasi tutti. Perché il mio giorno fa bene, ti mantiene come si dice, vivo. Mente lucida. Ora passiamo alla piccola estate di Campo di Giove in mostra. Barbara Deldemona che ne servizia. L'Officina dei Bambini si trasferisce per dieci giorni dall'11 al 20 agosto prossimi al Maya Park in una cornice naturale fantastica a due passi dal centro storico arricchendo la propria offerta per i più piccini con il laboratorio di teatro il vestito nuovo dell'imperatore che ha lo scopo di introdurre i bambini alle basi dell'arte scenica. Attraverso la metafora della storia di Gianni Rodari si propongono giochi ed esercizi di esplorazione del movimento, della voce ed improvvisazione teatrale con la presentazione al pubblico del lavoro finale. A seguire tre pomeriggi dedicati ai laboratori di tessitura e di pianificazione per non dimenticare le antiche arti e l'importanza che esse hanno avuto all'interno di piccole realtà agropastorali come la nostra. Il tutto nel magico contesto della pineta di Campo di Giove, già sede del parco avventura Maya Park, da tempo ormai centro di aggregazione quotidiano per vivere momenti di sport e di relax in perfetta armonia con l'ambiente naturale che lo circonda. E nelle calde sere d'estate uno sguardo rivolto al cielo, alla scoperta di stelle e pianeti. Un piccolo contributo per un'estate diversa organizzata dalla cooperativa sociale Tavola Rotonda. Svago e divertimento non fine a se stesso. Senza pretese certo, ma convinti di dare qualcosa in più a chi porterà a casa il ricordo di un abruzzo interno che non molla, non si arrende. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Cento anni e non sentirli e per Paolo Spigliati non si tratta di una frase fatta. Stupisce ancora le platee, è in grado di reggere discorsi più o meno leggeri incantando il pubblico. Il mondo della cultura lo festeggia nel giorno del suo centesimo compleanno. Uno studioso rigoroso interviene Carlo Maria Speranza del Lions Club di Sulmona, un caro amico socio onorario del Lions, un sulmonese, più sulmonese di tanti. Paolo Spigliati infatti nasce a Firenze il 30 luglio 1919 e si laurea con il massimo dei voti in medicina nel giugno del 1944 e nello stesso anno diventa assistente nell'Istituto di Patologia Speciale, Medica e Metodologia Clinica, diretto dal professor Lunedèi. Tra il 46 e il 48 perfeziona le conoscenze di istopatologia con il professor Teodori e quindi nel 1949, in collaborazione con il professor Haddell, direttore di un ospital di Londra, inizia per primo in Italia le ricerche nel campo della chemioterapia delle emolinfopatie maligne. Nel 51 diviene direttore della sezione ematologica dell'Istituto di Patologia Medica. Nell'agosto 1960, vincitore di concorso, entra nell'ospedale di Sulmona come primario medico. In seguito all'esperienza formata, Sireno Socomio Peligno, unita ai continui studi sulla cirrosi, epatica, alcolica, nel 66 viene invitato a partecipare al III Congresso Mondiale di Tokyo di Gastroenterologia. Dal 1992 fino al 1993, professore a contratto di clinica medica all'Università di Chieti, nel 95 viene nominato primo socio onorario nella Società Italiana di Prevenzione dei Tumori, essendo stato il primo a interprendere la strada della chemioterapia in Italia. La sua natura di efficace, raffinato e poliedrico comunicatore lo vede pubblicare articoli fondamentali di scienza e ricerca medica. Dal 1992, libero dagli impegni di lavoro e di insegnamento, ha continuato gli studi in senso ampio della parola, ricoprendo sino al 2012 la carica direttore dell'Università Sulmonese della Liberetà. La sua passione per la musica lo ha condotto a fondare l'Orchestra Sinfonica Sulmonese. Molti dei suoi studi e le ricerche sono stati pubblicati in volumi ricercati e consultatissimi. Con immutato entusiasmo e interesse, aggiunge Speranza, continua ancora oggi lo studio sulla storia dell'umanità, la musica, la religione e la comunicazione. A settembre, Lions Club di Sulmona organizzerà come regalo di compleanno per il Professor Spigliati la presentazione della sua ultima fatica editoriale, consistente nei due volumi summa dei suoi lavori editoriali. A Professor Spigliati auguriamo ancora tanti anni di salute e di studio, che resti sempre un personaggio spigliato, di nome e di fatto. Diversi volti nuovi e molte conferme per una preparazione che durerà circa un mese a Canzano. Si presenta così l'Ovidiana Sulmona, che ha cominciato a lavorare in vista della stagione 2019-2020. In campo c'è una squadra rinforzata per ben figurare, affidata nuovamente alla conduzione tecnica di Candido Di Felice, che è stato premiato dalla società per aver creduto alla salvezza fino alla fine. La situazione adesso è decisamente migliorata, in quanto è stato allestito un gruppo in grado di portare in alto il nome della città di Sulmona. Di Felice, innanzitutto la soddisfazione per la conferma e per la squadra che è stata allestita. Sì, come ho detto alla fine del campionato, questa è una società che sicuramente faceva una grande squadra e questo è stato fatto. Di Felice e calciatori, prima di recarsi a Canzano, si sono radunati allo Stadio Pallozzi e hanno dato un'occhiata ai lavori al terreno, immaginando già di poter giocare sul sintetico. Un nuovo campo e una squadra rinnovata, come binomio perfetto per tentare la scalata in eccellenza. Le ambizioni di questa squadra, il Presidente ha dichiarato vogliamo l'eccellenza. Io non posso contraddire il Presidente, è normale che la squadra è forte, aspetta a me con i ragazzi rispettare i pronostici. Prima di lasciare lo Stadio Pallozzi la società tramite Alberto Paolini, ha inteso ricordare lo storico calciatore del Sulmona, Nicola Dulisse, recentemente scomparso con il saluto di tutta la squadra, accompagnato da un lungo applauso. Prima di iniziare la preparazione e prima di iniziare la stagione acquistica 2019-2020, vorrei ricordare una persona che purtroppo è venuta a mancare in questi giorni, venerdì scorso, è stato un ex giocatore del Sulmona Calcio, un grande giocatore, un grande centravanti che negli anni, fine anni 80, iniziali 90, ha dato molto al Sulmona Calcio. E Nicola Dulisse, ciao Nicola. La seduta di allenamento a Canzano è stata preceduta da brevi discorsi dei dirigenti, Giovanni Meo, Alberto Paolini e Alessandro Lancia, per riferire a tutti che la società sarà sempre presente e non farà mancare mai nulla. Il gruppo si presenta rinforzato in tutti i reparti, con la ciliegina sulla torta chiamata Orlando Aquino. Orlando, lo ringrazio di aver accettato Sulmona, ma d'altronde ha accettato questa situazione perché di questa società ne parlano tutti bene. Lui è la ciliegina, ma tutti quelli che abbiamo preso e quelli riconfermati sono dei grandi giocatori. Ognuno lavorerà intensamente in questi giorni per raggiungere la forma ottimale. Ci alleneremo tutti i giorni, prima di arrivare in Coppa Italia, due o tre amiche, le faremo sicuramente. Il primo test in programma sabato prossimo, 3 agosto, alle 17.30 a Canzano, contro la Rosetana, squadra di categoria appartenente all'altro girone. E chiudiamo con lo dico al Tg, domande e segnalazioni, curiosità sulle notizie del giorno e non solo, che peschiamo sulla pagina Facebook di Onda TV con la diretta live di Onda TV. Vediamo velocemente quello che ci hanno scritto, complimenti per la voce che date al popolo. Poi il signor La Civita è un italiano emigrato in America, ma che ogni anno torna la sua amata Sulmona, come ha detto, grazie a Onda TV segue anche così lontano ogni sera le notizie. Ci va piacere di avere questo filo diretto anche con i tanti sulmonesi sparsi in Italia, nel mondo per ragioni di lavoro. Annullare la fiera dell'assunta per motivi burocratici, l'ennesimo danno che si fa al territorio. Ci hanno scritto, mi dispiace molto per il professore D'Amico, che ha speso tanto del suo tempo per il Denino Morandi, un destino segnato dalla politica. Ancora auguriamo una pronta guarigione per l'operaio, un impegno a migliorare la sicurezza e la prevenzione dei viadotti per evitare infortuni. Bene, continuate a scriverci sui social. Io vi ricordo dopo di noi, Abruzzo Notizie è il punto, ma come ogni martedì non possiamo chiudere senza l'aforisma del giorno. È davvero tutto per questa edizione. Onda li ci torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona serata. Consolido appuntamento del martedì con l'aforisma del giorno. Noi ci colleghiamo con l'uomo del martedì, Carlo Di Ruscio, per vedere quale aforisma ha scelto questa settimana, soprattutto per capire a quale notizia è associato. Buonasera Carlo e allora dici tutto. Buonasera Andrea e buonasera agli spettatori di Onda TV. L'aforisma di oggi verte sulla notizia del compleanno del professor Paolo Spigliati che ha raggiunto la bellissima soglia dei 100 anni. Il perforisma, detto prima in dialetto e poi in italiano, è questo, che a certe volte lo destino dove portano Roma. è un po' come dire nomen omen dei latini, cioè che il nome è un destino o il destino è indicato nel nome. Quindi tradotto che certe volte il destino è già segnato nel nome che uno porta, in questo caso nel cognome che il professor Spigliati nella sua carriera di brillante medico è stato primario all'ospedale di Sulmona per tantissimi anni, benché non sia di origine di Sulmona, ma è un sulmonese a tutti gli effetti perché nella parte della vita la sta trascorrendo qui da noi ed è una persona che veramente è molto spigliata sotto tutti i punti di vista e con tutti i sinonimi che l'aggettivo spigliato possa avere a partire da disinvolto tranquillo, persona vivace, ubriosa, brillante soprattutto. Una persona brillante perché lui è un appassionato e cultore di medicina, di musica, di religione, quindi è una grandissima figura sia nel mondo medico ma anche nel mondo culturale. per cui non mi resta che augurargli ancora tanti e tanti compleanni da vivere serenamente in ottima salute e sempre con la spigliatezza che lo ha contraddistinto fino ad oggi. Grazie a tutti!